Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è lutto per Jennifer Aniston. L'attrice ha rivelato di aver perso il padre, John Anthony, con un post su Instagram. Eri uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono grata che tu sia volato in paradiso in pace e senza soffrire, ha scritto Aniston nel messaggio di ricordo per il padre, accompagnato da una serie di foto dei due durante gli anni, da quando l'attrice era solo una bambina una più recente. John Aniston aveva 89 anni. Chi era John Aniston? Nato sull'isola di Creta, in Grecia, il 24 luglio 1933, John Aniston si era trasferito negli Stati Uniti quando aveva solo due anni. Come la figlia, era un attore. La sua carriera è iniziata negli anni 60. Il suo ruolo più noto è quello di Victor Kiriakis nella sopopera Days of Our Life, in Italia il tempo della nostra vita. L'ultimo episodio in cui comparirà andrà in onda negli Stati Uniti venerdì prossimo. Proprio quest'anno, l'attore aveva vinto il Lifetime Achievement Award ai Daytime Emmy per la sua interpretazione di Victor Kiriakis, che gli valse già diversi premi in passato. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!